Ruff, guardi la mia Nutella! Me l'ho sorpresa una scorta così perché, sa, c'avevo fama. E comunque sono ingrassato di 10 quili in questa quarantena. Prof, 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 prof Prof, mi vede? Prof, così mi vede? Prof, così? Così, prof, mi vede? Ok, allora... Prof, posso andare in bagno? Ha visto la mia... gamba? No, non voglio vedere la sua gamba! Ma che bella è la mia gamba! Non si azzardi! Non si azzardi! Non si azzardi! Non faccia quei segni più a presenza! No, però devi andare a destra! Ti ho detto a destra! No, no, allora, ascoltami! Io voglio atterrare all'agenzia! No, non voglio che la prof mi senta! Perché altrimenti sono cazzi amare, ecco! Occhio, occhio, occhio! Jumpa, jumpa, jumpa! P***a, sei scarso come la fame, Dio mio! Scarso come la fame! Sì, è un abbo, madonna mia, raga! Madonna mia, sto un abbo del cazzo! È un abbo del cazzo, madonna raga! È un abbo del cazzo! Buongiorno, buongiorno, ragazzi! Buongiorno, a casa è secchio! Le pagine che c'è da... Ah, ok! P***a! P***a! Otantuno! P***a! 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 si sembra solo non è entrata hai ancora una macchina famora tu non sono tutti fognetti, interagato Rif bomben il suo video lo hai giudito il suo video quattro dobbiamo dare un Oscar a sto ragazzino diamo un Oscar, diamo un fottuto Oscar